Oggi è martedì 14 luglio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 14 luglio 1099. Con la conquista di Gerusalemme termina la prima crociata, invocata nel 1095 dal Papa Urbano II nel corso di un'omelia tenuta durante il concilio di Clermont per riconquistare i luoghi santi del vicino Oriente, caduti sotto il controllo dei musulmani tra il 632 e il 661. L'interesse del Papa, oltre al significato spirituale della riconquista dei luoghi santi dopo quattro secoli di dominio musulmano, è anche quello di dare un impegno alla nobilità europea che lo distogliesse dalle vicende politiche locali, che avevano portato nel periodo precedente a scontri con il papato in occasione della lotta per le investiture guerre e le guerre feudali. L'assalto finale a Gerusalemme si completa nella mattinata del 15 luglio. Da lì le truppe conquistatrici iniziano un massacro degli infedeli di proporzioni mai definite. Secondo fonti cristiane avrebbero perso la vita 10.000 persone, secondo fonti musulmane 70.000. La prima crociata porta alla nascita dei cosiddetti stati crociati di Edessa, Antiochia, Gerusalemme e Tripoli. I reduci dalla crociata, tornati in Europa, sono accolti come eroi. La maggior parte di loro considera a questo punto compiuto il proprio voto fatto al papa. Gerusalemme resta così al proprio destino. Rimane cristiana solo fino al 1187, quando viene riconquistata dal sultano curdo Saladino. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.